Questa è una struttura che è disponibile dal 2000, però non si è mai riusciti a poterne soffrire in qualche modo. Dopo il terremoto si è deciso di costruire un'altra adiacente all'aia di Roiopiano, che è stata costruita dalla Caritas, ma anche quella è tuttora inutilizzata. Roiopiano, una delle tante frazioni terremotate dell'Aquila. A completare un paesaggio fatto di macerie e case ancora non ricostruite, è possibile ammirare, circondata ad Ortiche, la casa dello studente, realizzata con fondi regionali a partire dal 2000 e che ancora oggi è incompiuta per mancanza di fondi. Dalla parte opposta del paese, poi, si può far visita al centro polifunzionale, realizzato nel posto remoto su iniziativa della Caritas, costato un milione di euro di donazioni, finito di costruire nel 2012. Un centro che dispone di un ampio salone, 6.000 appartamenti con cucina indipendente e già arredati, per un totale di 20 posti letto. L'associazione Autismo Abruzzolus chiede da tempo di poterlo utilizzare per esperienze residenziali e di socializzazione per persone autistiche maggiorenni. Ma il centro è ancora chiuso per problemi di utenze allacci, in attesa di stabilire chi tra Comune e Caritas debba gestirlo e darlo in affidamento. E il tempo passa inesorabile, le strutture subiscono l'usura del tempo e gli abitanti sfollati di Roio continuano ad aver bisogno di spazi per non disperdere la socialità, per tenere accesa la speranza di una ricostruzione per nulla scontata del loro paese. Il paese è in totale abbandono ancora, tranne qualche intervento periferico, è ancora così, anzi continua a deteriorarsi perché essendo tutte le case aperte... E qui ci sarebbe bisogno di questi spazi? Certo, anche per far rinascere quella che è, tra virgolette, l'anima del paese, perché se non ci sono spazi dove incontrarsi, dove creare, elaborare progettualità, è difficile anche ripartire come comunità.